Musica Ultima edizione del telegiornale di Telemolise. Buonasera e buon ascolto. E' ancora incerto il futuro della filiera avicola molisana. La GAM è ferma dallo scorso mese di ottobre e il piano di rilancio presentato dal governatore Paolo Frattura non decolla a rischio oltre mille posti di lavoro. In apertura Giovanni Minicozzi. Non solo allevatori e trasportatori ma anche i lavoratori della GAM sono in apprezzione per il futuro produttivo dell'azienda, ferma dallo scorso mese di ottobre. Si tratta di 702 persone che vivono sulla propria pelle il dramma della crisi. 272 sono in cassa integrazione ordinaria, 400 sono gli avventizi senza lavoro e senza ammortizzatori sociali, 30 gli appartenenti alla ECCS Solagrital già collocati in mobilità. Il piano di rilancio presentato a inizio anno dal governatore Paolo Frattura di fatto è fermo ai nastri di partenza. Un vero e proprio dramma dunque che coinvolge in un sol colpo mille famiglie. La situazione è sempre più preoccupante da come l'avevamo lasciata. Il dato di fatto è che oggi comunque lo stabilimento da ottobre, io da ottobre non metto più piede nello stabilimento, come io un'altra 240, all'incirca 240 lavoratori. Ci siamo bruciati sei mesi di cassa integrazione ordinaria e mi auguro che al più presto, ma al più presto veramente, si cerca di far riaprire questa azienda. Ma che fine ha fatto il piano di rilancio industriale presentato dalla Giunta regionale? Allora, noi il piano industriale l'abbiamo visto e rivisto e abbiamo presentato delle criticità. Ad oggi ancora quelle criticità ancora non le abbiamo risolte. Quindi ecco perché esprimo tutta la mia preoccupazione. Qui il proverbio si dice a Campobazzo la cera si consuma e la processione non cammina. Quindi qui i lavoratori adesso sono tutti preoccupati, chiamano tutti i giorni anche per cercare di farla riaprire questa azienda. Questa azienda deve riaprire il prima possibile perché il Presidente Fratturi ci ha sempre promesso e tranquillizzato in tutte le riunioni che comunque questa azienda ripartiva. Ad oggi il bilancio è catastrofico. C'è un disastro sociale in giro. Ci sono addirittura 272 lavoratori a tempi determinati in gas integrazione, 420 senza forme di sostegno al reddito. Sono avventisi storici che da tanti anni hanno lavorato in quell'azienda. Per non parlare dei 30 lavoratori che stavano in Zollagra messi in mobilità dal commissario Tacchilei con allevatore e trasportatore e tutto l'indotto. Pensate un po' voi sulla situazione economica molisana. È un disastro sociale a tutti i livelli. Però il piano di rilancio punta decisamente sulle cooperative. Le avete già costituite? Ma noi le cooperative ancora non abbiamo costituito niente perché c'è tanta preoccupazione e tanta paura. Ad oggi ancora non sappiamo io personalmente, socio lavoratore, qual è la mia quota. Sono tante le domande che ci chiediamo. Però noi vogliamo che questa azienda riparta subito anche perché noi ammortizzatori, a prescindere che noi non vogliamo gli ammortizzatori sociali, noi vogliamo il lavoro, il lavoro per noi e per quel gruppo di lavoratori che oggi stanno fuori. E in più vogliamo che l'azienda riparta il più presto possibile. Più tempo si perde e più diminuiscono le percentuali di riaprire questa azienda. Una delle più grosse aziende molisana. Cambiamo argomento. E' stato arrestato il giovane di 25 anni di Molise che ha coltellato la ballerina di un night tentato omicidio. L'accusa che gli viene contestata. Intanto restano gravi le condizioni della ragazza. Ricoverata in rianimazione al Cardarelli di Campobasso. Il servizio è di Giovanni Di Tota. Lo hanno trovato nella casa in cui vive a Molise in uno dei paesi più piccoli della regione. Quel ragazzo lo conoscono un po' tutti. Oggi i carabinieri di Campobasso insieme ai colleghi di Boiano hanno bussato alla sua porta. Tra le mani il mandato di cattura firmato dal giudice Teresina Pepe che ha accolto la richiesta di arresto formulata dal pubblico ministero Nicola D'Angelo. L'accusa ipotizzata a carico di Luigi Sala è di tentato omicidio. Lo scorso fine settimana in un locale notturno di Petrella ha accoltellato una ballerina rumena che si esibiva nel night. Lei bellissima, la descrive chi la conosce ed aveva fatto perdere la testa. Luigi nel night era andato oltre e le sue avance, diventate troppo insistenti, avevano provocato il rifiuto della 24enne dell'Est. A quel punto il cervello di Luigi Sala è andato in tilt. Stando alla ricostruzione fatta dai carabinieri e sostenuta da D'Angelo nella richiesta d'arresto, il giovane aggressore ha tirato fuori un coltello a scatto e ha colpito un solo fendente al petto. La ballerina è crollata a terra, lui è scappato, ma vicino a Boiano il giovane è stato rintracciato e identificato. I carabinieri hanno anche ritrovato il coltello utilizzato per colpire la rumena. Dopo aver incrociato le testimonianze di chi era nel locale di Petrella, al momento dell'accoltellamento, il sostituto D'Angelo ha chiesto l'arresto del disoccupato di Molise che il GIP ha disposto oggi. Domani i carabinieri hanno già convocato la stampa per illustrare i particolari dell'ordinanza. Intanto la ragazza trasportata al Cardarelli è stata operata nel tentativo di ridurre i danni provocati dalla coltellata che ha leso organi interni, provocando un violento shock emorragico. La giovane donna è ricoverata in condizioni critiche e in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, dove l'equip che la segue controlla anche l'andamento cerebrale. E ora apriamo l'ampia pagina elettorale perché l'arrivo di Raffaele Fitto a Isernia ha riacceso l'entusiasmo nell'area di centrodestra e in particolare in quella di Forza Italia. Ricevere il candidato della circoscrizione meridionale alle europee, l'ex governatore Michele Iorio, che è confitto a un rapporto politico e personale di lunga data. Sentiamo cosa ha detto Fitto nel servizio di Enzo Di Gaetano. Sbaglia chi dà Berlusconi e Forza Italia in difficoltà e a rischio sconfitta rispetto a Renzi e Grillo. Accadrà anche questa volta, Berlusconi recupererà negli ultimi giorni e succederà quello che è sempre successo. Forza Italia andrà oltre ogni previsione, soprattutto al Sud. Lo ha detto Raffaele Fitto, capolista alle europee di Forza Italia, nel collegio elettorale che comprende il Molise. E per il Sud Fitto promette un impegno ancora maggiore. Io non ho ascoltato ancora nelle parole del Presidente del Consiglio Renzi una sola volta la parola mezzogiorno né delle risposte concrete sulle politiche di intervento nel mezzogiorno. Questa campagna elettorale nel rideterminare il rapporto con l'Europa ha anche un obiettivo decisivo. L'obiettivo è quello di rimettere al centro dell'attenzione il mezzogiorno d'Italia. Ma Fitto non ha parlato solo di europee, infatti ha anticipato a Isernia che sarà rivista all'organizzazione regionale di Forza Italia, superando il commissariamento. È uno dei problemi che affronteremo con il Presidente Berlusconi. Io penso che sia utile e importante ripartire dal territorio, dagli eletti, da coloro i quali hanno avuto e hanno un ruolo molto importante all'interno del nostro partito, a partire da Michele. Iorio che sicuramente ha svolto un ruolo negli anni e che certamente potrà continuare ad essere un punto di riferimento insieme a tanti altri amici eletti all'interno del nostro partito. Certamente Forza Italia ha bisogno di una sua riorganizzazione insieme con l'amico Gianfranco Rotondi avremo modo di dedicare un'attenzione nei prossimi giorni, nei prossimi mesi e poter uscire da questo impasse e rilanciare anche qui un'azione del partito di cui c'è fortemente bisogno. E Michele Iorio, amico di lunga data dell'ex governatore della Puglia e suo sostenitore elettorale per le europee, ha sottolineato come Fitto sia stato uno dei migliori sostenitori delle ragioni del Molise ricordando cosa fece per far passare la famosa delibera Cipe che stanziava un miliardo per il rilancio della nostra regione. Raffaele Fitto ha titolo ad esprimersi a favore del Molise perché lo ha fatto quando era ministro. Vorrei ricordare che è stato il ministro del famoso miliardo di euro in una sola delibera Cipe che ancora non si riesce nemmeno a spendere. E' una persona che ha guardato questa regione con un occhio particolare anche perché la conosce bene, credo che sarà un ottimo rappresentante di Forza Italia in Europa e dopo le elezioni europee ricostruiremo anche Forza Italia nel Molise e nel paese perché io credo che il futuro dei moderati del centrodestra dipende proprio da questa vittoria. E intanto ha fatto tappa anche a Campobasso Massimo Paolucci, candidato PD alle elezioni europee nella circoscrizione sud dell'esponente del Partito Democratico, componente della nona commissione alla Camera dei Deputati. Ha tenuto una conferenza stampa insieme con il candidato sindaco di Campobasso e con il parlamentare Danilo Leva. Paolucci più di altri può rappresentare il mezzogiorno in Europa ha detto proprio Leva, un'Europa che va cambiata e nella quale le regioni, soprattutto quelle del sud devono far sentire la loro voce. Il Molise è stato detto inoltre una regione martoriata e le prossime elezioni devono rappresentare l'opportunità di rilancio e crescita economica e sociale. Con lo schieramento ormai completo e la composizione della scheda elettorale la propaganda per le comunali di Campobasso è ormai entrata nel vivo. I due candidati che sulla carta appaiono avanti agli altri anche per numero di liste e previsioni della vigilia che hanno cominciato a punzecchiarsi. Michele Scasserra ha criticato in particolare Antonio Battista per la sua presenza decennale nel palazzo e allora sentiamo ancora Giovanni Minicozzi. Dopo aver ideato e lanciato il polo civico insieme a Massimo Romano ha riflettuto a lungo e ha pesato la sua decisione di accettare la candidatura a sindaco per Campobasso arrivata solo pochi giorni prima della presentazione delle liste. Oggi Michele Scasserra, ex assessore regionale, già presidente di Assindustria infiamma una campagna elettorale finora ingessata e sferra un duro attacco al centro-sinistra capeggiato da Antonio Battista. Con quale coraggio, dice Scasserra, costoro cavalcano l'onda del rinnovamento se le loro liste hanno imbarcato quasi tutta l'amministrazione comunale uscente. La più grande novità del centro-sinistra infatti è l'aver candidato nelle proprie fila ben 12 consiglieri comunali di centro-destra, tutti accuratamente spalmati nelle diverse liste per tentare di garantirgli la rielezione, specifica poi l'aspirante sindaco. Dal canto mio, aggiunge Scasserra, sono orgoglioso di partecipare ad un progetto civico con persone capaci, motivate, giovani e dinamiche che davvero potranno realizzare un effettivo rinnovamento. Il giudizio finale è nelle mani degli elettori, conclude Scasserra, che sapranno esprimere il proprio consenso in favore di chi ha davvero intenzione di fare e puniranno imbarazzanti alleanze di comodo tra persone che nulla hanno in comune se non nello spasmodico desiderio di tornare su quegli scranni che, per troppo tempo, hanno inutilmente occupato. Attacco frontale dunque del polo civico nei confronti del centro-sinistra che con la sua corazzata composta da 11 liste a sostegno del candidato sindaco Antonio Battista evidentemente non intimorisce gli avversari. Intanto continua a ritmo serrato anche la campagna elettorale degli altri competitori. In particolare Gino Di Bartolomeo, Forza Italia, si muove nelle contrade, Roberto Gravina, Movimento 5 Stelle, fa il cosiddetto porta a porta e Giuseppe Saluppo gira a piedi, in lungo e in largo, la città a capoluogo. D'altra parte il tempo è tiranno e tra 20 giorni si vota. E a Campobasso è stata presentata la lista dell'Italia dei Valori che sosterrà la corsa di Antonio Battista. Intanto tiene banco la polemica sulle candidature di diversi esponenti del centro-destra proprio nella lista dell'IDV. Il servizio è di Anna Maria Di Matteo. L'Italia dei Valori ai nastri di partenza con 31 candidati di cui 14 donne a sostegno dell'aspirante sindaco del centro-sinistra di Campobasso Antonio Battista. Una lista forte, ha detto lo stesso Battista nel corso della presentazione che rappresenta tutte le fasce sociali della città. Una lista di cui avrebbe dovuto far parte anche l'ex assessore della giunta di Bartolomeo Nicola Cefaratti che proprio a poche ore della scadenza della presentazione delle candidature ha fatto un passo indietro. Questa è la versione data dal candidato sindaco Battista e dall'assessore regionale Pierpaolo Nagni. C'è stato un problema tecnico, ha spiegato che Cefaratti per propria scelta non ha voluto sanare. Una scelta meditata, una scelta fatta da una persona per bene che guarda avanti e che di certo sarà del nostro partito, ha chiarito l'esponente dell'Italia dei valori. Ma a tenere banco in questi giorni sono le candidature di diversi esponenti di spicco della maggioranza di centro-destra che sostiene il sindaco sciente di Bartolomeo proprio nelle file dell'IDV. Per Battista rappresentano un valore aggiunto. Per la coalizione, il segretario regionale Cristiano Di Pietro non sembra essere particolarmente preoccupato delle critiche che arrivano proprio in queste ore. Quando una coalizione è forte e quando le idee come quelle dell'Italia dei valori valgono molto sul territorio, è normale che amministratori che si sono trovati dall'altra parte vedono queste idee forti, questi programmi innovativi come quello che l'Italia dei valori vuole mettere in campo per termine, parliamo per esempio anche della videosorveglianza con il patto della sicurezza, ecco, sono quei punti che portano gli amministratori a non guardare la bandiera ma a guardare la sostanza del programma. Non è che magari nel caso in cui Battista dovesse essere eletto sindaco in futuro possono esserci problemi per quanto riguarda la maggioranza essendo una maggioranza così appunto composita? Dunque sicuramente il nostro sindaco sarà Battista innanzitutto e l'Italia dei valori è un partito granitico che con i suoi amministratori che metterà all'interno dell'amministrazione di Battista saprà fare la differenza e saprà dare quella tenuta come sta dimostrando anche in regione che nessun altro sa dimostrare. Cosa risponde alle critiche mosse da alcuni esponenti locali proprio per quanto riguarda l'ingresso di, soprattutto per quanto riguarda l'Italia dei valori, di numerosi esponenti del centro-destra? L'Italia dei valori cosa risponde? Ma chi ci critica erano quelli che stavano con l'Italia dei valori e se ne sono andati da altre parti quindi per cui guardatevi allo specchio e pensate a voi. E al comune di Termoli resta fuori dalle elezioni amministrative la lista dell'Udeur lo ha deciso il Tar che ha respinto il ricorso presentato dai candidati del partito che sostiene Michele Maroni alla carica di sindaco. Ora la lista deciderà se impugnare il dispositivo e ricorrere al Consiglio di Stato. E sempre a Termoli singolare presentazione nella sala di una discoteca per le cinque liste che sostengono Remo di Giandomenico alla guida del comune. Siamo noi i veri rottamatori, ha detto il già quattro volte sindaco della città, Remo di Giandomenico. C'era per noi Fabrizio Occhionero. Un maestoso castello a guardia del territorio scudava l'azzura distesa del mare come attenta e vigile sentinella. Ha chiamato a raccolta quello che definisce il popolo termolese e ha letto con tanto di musica di sottofondo una favola metafora sul declino di Termoli, città da ricostruire secondo Remo di Giandomenico in corsa con la coalizione termolese composta da cinque liste civiche, quattro volte sindaco, parlamentare, altri ruoli, in una lunga storia politica che scorre nelle diapositive e non si ferma. Siamo noi i veri rottamatori, ha fermato con tenacia il candidato sindaco pronto per la sfida di fine maggio in cui ha messo insieme le liste facendo leva sulla motivazione e il coinvolgimento. La nostra coalizione è una coalizione compatta che si batte per un'idea, l'idea della città e per un progetto, quello di far rinascere la città riprendendo tutte le iniziative all'interno del proprio territorio. Penso che sia una discriminante, noi ragioniamo in termini oggettivi e a me pare che gli altri ragionino in termini soggettivi. Singolare la presentazione nella sala di una discoteca sul lungomare per i 120 candidati, molti giovanissimi, a partire dalla classe 1995. In stile showman, Remo di Giandomenico li ha chiamati per nome, li ha intervistati, con familiarità ha parlato con loro dei punti del programma, dal lavoro allo sviluppo, indicando la coalizione come unica alternativa per restituire al comune di Termoli il ruolo che gli spetta sul territorio. Una città che, ha aggiunto poi il candidato sindaco, deve tornare a splendere, a dare opportunità e possibilità di crescita ai suoi abitanti che oggi soffrono e piangono. Di riprendersi la città, il comune del popolo, il comune dei cittadini, i cittadini di Termoli devono riprendersi il comune. Ma intanto a sostenere Angelo Sbrocca, candidato sindaco del centro-sinistra sempre al comune di Termoli, è intervenuto Mario Maiolo in corsa con il Partito Democratico alle elezioni europee. Maiolo ha parlato delle politiche dell'Europa e della reale possibilità di riforma e crescita che coinvolgeranno anche Termoli e il territorio. Secondo l'esponente del PD, la città è simbolo di altre realtà industriali italiane in crisi con i loro problemi da affrontare. A presentare Mario Maiolo, la segretaria regionale del Partito Democratico, Michela Fanelli, intervenuta nella sede di Sbrocca insieme all'assessore regionale Vittorino Facciolla. Entra nel vivo la campagna elettorale anche a Campomarino dove sono tre i candidati alla fascia tricolore. Il primo a presentare la lista è stato il capogruppo di opposizione uscente, Vincenzo Cordisco. Siamo noi la vera alternativa, ha detto l'esponente del Partito Democratico, e sentiamo ancora Fabrizio Occhionero. Cinque intensi anni da consigliere di opposizione per segnalare e denunciare quello che in base alla sua esperienza non ha funzionato al comune di Campomarino. Ora Vincenzo Cordisco, capogruppo uscente del PD, si candida alla fascia tricolore come alternativa reale in paese con una lista orientata al centro-sinistra. Fanno parte della lista persone della società civile che hanno deciso di mettersi in gioco per la voglia e per l'amore che hanno verso questo paese. Siamo pronti a dare un'alternativa e una speranza a tutto quello che fino ad oggi non è stato fatto per i cittadini. Lavoro, crescita e sviluppo le priorità indicate dal candidato sindaco e quattro aree programmatiche dalle quali individuare le soluzioni migliori che ha affermato Cordisco servono per cambiare l'amministrazione e far ripartire Campomarino. Si tratta di ambiente artigianato, industria e turismo. Per il turismo la priorità fondamentale è quella di ridare al Lido quello sviluppo e quella potenzialità che merita attraverso il discorso delle aree demaniali da dare in concessione ai ragazzi coi microlidi oppure attraverso una rinascita e un completamento della struttura porto che fino ad oggi ancora non riesce a dare quello che deve dare come ritorno economico alla comunità. Riconoscere l'area di crisi in Basso Molise, valorizzare i prodotti del territorio e le progettualità dei giovani, altri punti del programma di Cordisco. A cui alla presentazione sono intervenuti i parlamentari del PD Laura Venitelli e Roberto Ruta, la segretaria di federazione Giuliana Ferrara e l'assessore uscente al turismo Giuseppina Occhionero. Bene, lasciamo la pagina politica. Dopo le fughe dai centri di accoglienza di Rocca Ravindola e Casa Calenda si tenta di correre ai ripari. Domani alla prefettura di Campobasso è stato convocato il coordinamento regionale sull'emergenza pro fughi. Intanto nei prossimi giorni sono previsti nuovi arrivi. Allora sentiamo Sergio Di Vincenzo. In fuga dai centri di accoglienza del Molise per raggiungere parenti nel nord Europa. È accaduto a Rocca Ravindola con 15 ritrei. Dopo essersi rifiutati di farsi identificare, durante la prima notte di permanenza hanno fatto perdere le loro tracce e qualcosa di simile è successo anche con i profughi arrivati a Casa Calenda. Per affrontare questo e gli altri problemi legati all'accoglienza, domani pomeriggio alla prefettura di Campobasso si riunirà il comitato di coordinamento regionale sull'emergenza profughi. In quella sede, ha spiegato il vicepresidente della giunta regionale e assessore alle politiche sociali, Michele Petraroia, si dovrà valutare ciò che sta accadendo nelle strutture di accoglienza legate a questa emergenza e definire eventuali soluzioni per superare i problemi che sono emersi. Da quanto si è appreso, anche nelle prossime ore sono previsti nuove arrivi, una trentina di profughi a Montaguila, per lo più donne e bambini, e altri 15 a Monteroduni, dove si arriverà a 105 rifugiati richiedenti asilo. L'assessorato fa inoltre sapere che non si registrano particolari sofferenze nel centro di accoglienza di Vinchiaturo, mentre a Monteroduni c'è stata solo una protesta pacifica per richiamare l'attenzione sulle loro condizioni. Nei prossimi giorni non sono esclusi nuovi arrivi molise, per questo diventa opportuno essere pronti a gestire l'eventuale emergenza, ha concluso Petraroia. I carabinieri di Agnone hanno denunciato un giovane di 27 anni per detenzione e coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, dopo aver trovato nella sua auto un modesto quantitativo di droga. I militari hanno perquisito anche l'abitazione, dove hanno scoperto una piccola serra. Sono state trovate quattro piante di cannabis, poco meno di 20 grammi di marijuana essiccata, semi e altro materiale necessario alla coltivazione, reperito anche via internet. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate. Adesso parliamo della strada statale Fondovalle-Tappino, scenario di numerosi incidenti. Un gruppo di cittadini ha promosso un'iniziativa per sensibilizzare le istituzioni per la messa in sicurezza di tutto il tratto, soprattutto quello interessato da frane e curve pericolose. Vediamo. La sicurezza stradale dovrebbe essere un obiettivo di tutti i paesi civili. L'importanza di avere collegamenti e strade funzionali e sicure dovrebbe rientrare a pieno titolo tra i servizi che le amministrazioni devono garantire ai propri cittadini. Proprio per questo c'è chi ha deciso di promuovere una raccolta firme per mettere in sicurezza la strada statale 645 Fondovalle-Tappino, troppo spesso scenario di pericolosi incidenti, molti dei quali mortali. I promotori dell'iniziativa, che ha messo insieme Molise, Campania e Puia, le tre regioni interessate, hanno deciso di inviare una lettera alle istituzioni, alla stampa, ai sindaci della zona, alle forze dell'ordine, alle prefetture e alla Corte dei Conti per sensibilizzare tutti. Mercoledì mattina, verso le 10, ci sarà una manifestazione, un presidio pacifico, hanno detto gli organizzatori, a partire dal chilometro 16 della Fondovalle-Tappino. Abbiamo invitato tutte le persone, tutta la popolazione, sia la cittadinanza, io sono di Riccia, nei paesi limitrofi, anche la zona della Puglia, della Campania, i sindaci dell'area del Fortore, sempre della zona, soprattutto è interessata anche l'area di Sant'Eliappianesi, Pietra Catella e i paesi Monaciglioni. È interessata anche il sindaco, diciamo, della provincia di Benevento, Castelvedere-San Bartolomeo-Basilice, la provincia della Puglia, come Volturara-Celenza, dove anche i pendolari la mattina e altre persone vanno a Campobasso, sia per lo studio, per lavoro, per altre cose. Abbiamo invitato il prefetto, abbiamo invitato altre autorità, l'ANAS e il presidente della regione Molise, la questura di Campobasso, la polizia strada, tutti gli enti competenti su quella strada. Una questione molto delicata, quella della messa in sicurezza delle strade, soprattutto per la Fondovalle-Tappino, troppo spesso dimenticata e che purtroppo continua a mettere vittime. Noi abbiamo raccolto subito l'invito fatto dall'amico Carmine per quanto riguarda questa strada, perché sentiamo molto il problema. Anche se siamo provincia di Benevento, questa strada è frequentata da molti concittadini che per vari motivi si devono recare a Campobasso per studio, cure mediche, per lavoro. È sentito il problema, è sentito perché è un importante collegamento tra regioni, quindi abbiamo detto prima regione Puglia, Campania, Molise stessa. Quindi speriamo che si intervenga celermente. Io dal canto mio ho preveduto a invitare tutti i sindaci dell'area Fortore, le amministrazioni di Tufara, di Riccia stesse, tutti quanti. Speriamo che ci sia una forte partecipazione per smuovere un attimino questi lavori che riprendano al più presto per quanto riguarda i due cantieri bloccati da ormai diversi anni. e si faccia qualcosa di concreto per quanto riguarda quella frana che sono ormai anni che vengono effettuati dei piccoli interventi che non risolvono il problema. C'è stata una dura presa di posizione dell'ACEM, l'Associazione dei Costruttori Edili del Molise, contro l'esclusione delle imprese del settore delle opere pubbliche dalla cessione agevolata dei crediti della Cassa Depositi e Prestiti. L'esclusione è prevista dal decreto legge sulla spending review. Il presidente Corrado Di Niro si è rivolto ai parlamentari molisani affinché in sede di conversione in legge del decreto vengano adottati correttivi necessari per evitare la disparità di trattamento riservato alle imprese edili già vessate, dice Niro, dalla grave recessione in corso. E alla Camera di Commercio di Isernia sono stati presentati due nuovi bandi per sostenere sia chi decide di aprire una nuova impresa sia chi intende puntare sulle tecnologie digitali. Intanto anche nel primo trimestre del 2014 è inattivo il saldo tra aziende che aprono e quelle che chiudono. Ancora Sergio Di Vincenzo. Due nuovi progetti sono stati finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Union Camere per cercare di dare una scossa alle piccole e medie imprese e di favorire così la ripresa economica. Il primo, denominato la città delle energie, oltre a incentivare iniziative che portino a un effettivo risparmio energetico intende indirizzare le aziende locali verso le opportunità offerte dalle tecnologie digitali e in particolare dall'e-commerce attraverso contributi e formazione. Il secondo, invece, prevede un sostegno alla creazione di impresa. C'è una prima parte che riguarda le imprese che già esistono ed è la città dell'energia. Quindi abbiamo due bandi, uno per un check-up energetico e un altro per quanto riguarda l'efficientamento energetico. dove noi diamo dei contributi a fondo perduto per una serie di attività che poi saranno previste in questi bandi. Poi, invece, abbiamo l'altro che è per la creazione di impresa che riguarda le start-up. Oltretutto, le start-up anche costituite nei 36 mesi precedenti perché vogliamo anche dare queste agevolazioni a chi già ha fatto questo passo importante di creare una nuova impresa e vanno dalla formazione di base proprio per l'attività imprenditoriale a una formazione più avanzata e poi contributi a fondo perduto anche per investimenti sia materiali che immateriali, compreso anche un contributo fino a 2.000 euro in conto interessi per chi attiva dei finanziamenti fino a 25.000 euro di microcredito. Intanto, anche gli ultimi dati confermano la voglia di reagire da parte del mondo imprenditoriale della provincia di Sernia. Anche nel primo trimestre del 2014 il saldo tra imprese che aprono e quelle che chiudono è inattivo. 225 nuove iscrizioni contro 185 cessazioni. Siamo la Camera di Commercio prima come saldo attivo tra apertura e chiusura di nuove imprese. Questo penso che possa essere il frutto poi dell'attività che in qualche modo abbiamo messo in campo anche con le altre istituzioni, vedi Fimolise, vedi Sviluppo Italia. La poesia La Vita di Michela Picanza studentessa del liceo scientifico di Santa Croce di Magliano è stata selezionata al premio nazionale Valeria. Il concorso letterario nato in memoria della giovane scomparsa in un incidente stradale si è svolto a Rieti. Anche quest'anno a Lucito è tornata la tradizione del pagliaglio di maggio un rito augurale per la primavera e per la buona riuscita dei raccolti. Sentiamo. Riti e tradizioni che si perdono nella notte dei tempi il Molise è anche questo. Tra le tante tradizioni una delle più antiche è sicuramente quella del pagliaio di maggio un albero che raffigura l'arrivo della primavera e l'augurio della prosperità per i raccolti della terra. A Lucito il rito della defensa dal nome di un antico territorio a valle del paese unisce tutti per una manifestazione che risale all'Ottocento come hanno spiegato gli organizzatori. La prima documentazione di questo rito ci viene dall'arciprete Gennaro Piedimonte nelle notizie civile e religiose di Lucito dove dice che da tempo immemore 1899 è stato pubblicato questo libro dell'editore Colitto di Campobasso da tempo immemore si svolge questa festa a Lucito a loro tempo immemore e certamente bisogna risalire forse all'inizio dell'Ottocento ecco in cui da quello che abbiamo sentito dagli anziani 90-92 anni i loro avi raccontavano di questa tradizione e non ricordo nella memoria è fisso insomma il canto però della tradizione è un po' poco. Poi nel 1920 il musicologo pianista e critico musicale lucitese Vittorio De Rubertis documenta questa tradizione attraverso uno studio musicologico pubblicato nella rivista italiana di musicologia ad accompagnare la sfilata lungo tutto il paese musica e canti della tradizione gli strumenti utilizzati come diceva il collega sono soprattutto gli strumenti più tradizionali più antichi che sono stati tramandati diciamo dai nostri avi dai nostri genitori nonni eccetera e che comunque poi si sono aggiunti a questi strumenti diciamo più tradizionali soprattutto l'organetto no? l'organetto la chitarra insomma che costume di il bufu che è in uso un po' in tutto il Molise ma comunque che è fondamentale insomma per accompagnare questo canto e gli strumenti appunto che suonano come basso soprattutto questo strumento il rito della defensa risalente all'Ottocento è tornato in vita alla fine degli anni 90 grazie ad un gruppo di giovani che ama Lucito e che non vuole far morire le tradizioni del passato abbiamo cercato di aggiungere sempre qualcosa di nuovo di coprire anche più parti del paese proprio per portare quest'area così di brio e di festa a tutte le case e quindi a tutte le persone di Lucito proprio come saluto benaugurale e con il pagliaio di maggio di Lucito termina anche l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise grazie perché scegliete la nostra informazione buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti